20 anni di amicizia tra il comune dell'Aquila e quello di Zielunagura in Polonia, un gemellaggio cresciuto negli anni e che si è rinnovato questa mattina nella sala del Consiglio Comunale dell'Aquila. Un rapporto importante, quello tra le due città, che condividono diversi interessi, la cultura, l'università, l'arte. La nuova amministrazione di Zielunagura ha saputo cogliere gli aspetti di sviluppo, ha detto l'assessore Capri, delle nuove politiche comunitarie, diventando una città evoluta e dinamica. Se noi abbiamo sperimentato dopo il terremoto una straordinaria efficienza, una straordinaria solidarietà anche da parte delle città gemellate. Quindi servono anche per creare dei legami che, pure se non portano niente nell'immediato, magari si creano delle basi per poter fare delle cose in futuro. Come si sta facendo con Zielunagura? Oggi loro incontreranno anche degli imprenditori qui all'Aquila. Quindi ci sarà anche il momento in cui avranno la possibilità di capire se ci sono delle proposte, delle ipotesi di lavoro, di sviluppo sul territorio. Il presidente del Consiglio Comunale di Zielunagura ha ricordato come siano molto interessati all'Università dell'Aquila e al polo tecnologico per scambiare e condividere esperienze. Non ci sono imprenditori che hanno fatto investimento, però noi abbiamo realizzato tanti progetti culturali, scambi giovani che ci sono veramente risultati buoni. Adesso speriamo che possiamo cambiare le nostre esperienze sul parco tecnologico. a